Il fatto gravissimo è che l'ipotesi accusatoria per cui il dottor Parone ha imposto ai pubblici misteri che avevano chiesto all'archiviazione l'imputazione coatta per il presidente Lombardo e quindi l'ipotesi accusatoria che tiene oggi ancora il presidente Lombardo impegnato nel processo per concorso esterno mafioso è che lui avrebbe comunque in qualche modo aiutato la Safab e ciò per aiutare e avvantaggiare Cosa Nostra anche accrescendo nel prestigio dinanzi a questi imprenditori del nord. Oggi il maggiore Arcidiacono ci viene a dire invece l'esatto contrario che il presidente Lombardo tramite non si sa chi avrebbe penalizzato peraltro ingiustamente ingiustificatamente la Safab che secondo lui forse aveva il diritto di costruire il villaggio per gli americani per invece aiutare un'altra ditta che avrebbe dovuto costruire questo complesso edificatorio in un altro terreno. Questo è un ribaltamento dell'ipotesi accusatoria per cui noi qui in questo processo si dice una cosa e nell'altro processo gemello per concorso esterno si dice l'esatto contrario. Quindi noi siamo a giudizio in due processi diversi per i medesimi fatti ma in cui l'ipotesi accusatoria è esattamente contraria. Ritengo che queste cose siano fatti gravissimi di una gravità rilevantissima e che debbano essere portate all'attenzione ovviamente della magistratura ma anche di tutti perché non si può sopportare un paese civile come il nostro fatti del genere.